Sono state riprogrammate le risorse POR per ulteriori aiuti in favore delle piccole e medie imprese pugliesi della cultura e del turismo. L'assessore regionale Massimo Brai, al termine dei lavori della Giunta regionale, ha affermato «Le filiere della cultura e del turismo sono in particolare sofferenza e stanno affrontando un lungo periodo di fermo per il perdurare della pandemia. Potremo affrontare la ripresa con le energie necessarie solo se continueremo a sostenere il nostro sistema imprenditoriale e salvaguardare l'occupazione». Brai ha proseguito. Per questo, conclusa la prima edizione dei BAM di Custodiamo la cultura e il turismo in Puglia, che copriva le perdite di fatturato nel primo periodo della crisi, ha condiviso con il presidente Emiliano e l'assessore allo sviluppo economico dell'Inocidi riprogrammare le economie rinvenienti dal primo stanziamento di 50 milioni per andare a coprire con nuove misure straordinarie gli ulteriori danni economici subiti dalle filiere del turismo e della cultura a partire da ottobre 2020 con l'esplosione della seconda ondata di pandemia.